buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è sabato 10 agosto 2024 e iniziamo come sempre sfogliandolo al manacco del giorno per vedere che si festeggia oggi ebbene penso che voi lo sappiate tutti chi è il santo di oggi siamo il 10 agosto e il santo non può essere che san lorenzo san lorenzo l'interprete di una bellissima poesia pascoliana san lorenzo che ci invita a guardare il cielo guardare in alto guardare le stelle le stelle che cadono oggi in un meraviglioso spettacolo che la natura ci offre occorre ovviamente andare nei posti bui per evitare l'inquinamento luminoso ma le pleiadi sono quelle che insomma ci danno uno spettacolo veramente eccezionale perché in quella zona dovrebbero cadere le stelle ovvero tutto ciò che rimane per quanto riguarda ciò che entra in atmosfera allora san lorenzo san lorenzo era spagnolo visse nel terzo secolo arcidiacono della chiesa romana una carica che equivale un po al cardinalizio di oggigiorno quindi era una figura molto molto importante fu molto precoce negli studi ed ebbe una cultura veramente importante a quell'epoca e però 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 san lorenzo fu soggetto alla persecuzione dell'imperatore valeriano imprigionato e torturato sappiamo tutti purtroppo come morì e fu veramente una morte atroce fu posto su una graticola incandescente e qui bruciato lentamente morì il 10 agosto del 258 quindi auguri a tutti coloro che si chiamano lorenzo un nome ancora molto diffuso al giorno d'oggi ed ora passiamo alle previsioni del tempo siamo molto molto vicini a ferragosto quindi al punto centrale delle vacanze di tutti coloro che possono andare in vacanza e godersi di un periodo di relax il tempo comunque è propizio il tempo è stabile e solleggiato per l'intera giornata su tutto il territorio regionale farà un gran caldo veramente perché le temperature sono sempre molto molto alte le massime si attestano sui 35 36 gradi mentre la minima ha toccato i 21 gradi sulle coste i 20 sono con una tensione debole spireranno da est così come nell'entroterra il mare è calmo purtroppo ci sono un po' di mucillaggini e dobbiamo dire che ieri lo sciopero che su tutta Italia hanno proclamato i concessionari di spiaggia ha avuto poche adesioni nel nostro territorio dove si spera ancora che il governo possa adoperarsi affinché la direttiva Volkistan abbia delle variazioni insomma non venga applicata così com'è il sole è sorto alle 6 e 04 e tramonterà alle 20 e 21 allora abbiamo sulla nostra scrivania il Corriere Adriatico questa mattina e lo apriamo sulla pagina di Fano vediamo l'apertura dedicata alla conferenza stampa del venerdì che ieri ha tenuto il sindaco di Fano Luca Serfilippi e ha parlato di ordine pubblico ha parlato di ordine pubblico perché ha varato una ordinanza che vieta l'utilizzo del vetro bottiglie di vetro bicchieri di vetro contenitori nel territorio in modo particolare diciamo meglio nel centro storico nella zona mare ma anche su tutto il territorio comunale nei pressi delle scuole e nei luoghi sensibili allora vediamo il titolo contro risse aggressioni e degrado vietato il vetro in centro e al mare l'ordinanza del sindaco configura per i trasgressori un reato penale e una multa da 206 euro ecco la novità è questa non si applica soltanto una multa ma si incorre nelle prescrizioni dell'articolo 650 del codice penale che prevede l'arresto fino a tre mesi e quindi anche l'iscrizione nel casellario giudiziario appunto del nominativo che trasgredisce queste regole e vediamo qui nella fotografia il sindaco Sir Filippi che ha annunciato l'ordinanza insieme al vice comandante della polizia locale di Fano Oscar Di Benedetto insomma ha così coinvolto i suoi uomini per il rispetto di questa ordinanza ricordiamo che il vetro, che proibire il vetro vuol dire cercare di limitare un po' anche le ubriachezze moleste e soprattutto evitare che bottiglie di vetro, bicchieri di vetro spezzati possano costituire un'arma in caso di liti, aggressioni così come è capitato non di rado ultimamente nella zona di Fano i luoghi sensibili li conosciamo tutti sono quelli di Piazza Miani, di Piazza Andrea Costa della zona della Rocca Malatestiana ecco perché anche in seguito ad una riunione del Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza che si è tenuta in Prefettura c'è stato un aumento di controlli, di presenze delle forze dell'Ordine, della Polizia Locale che è in servizio tutti i giorni fino a 1.30 di notte e poi i carabinieri e la Polizia e gli agenti del Commissariato che si alternano per controllare il territorio vediamo le altre notizie invasioni di cimici, otto famiglie chiuse in casa in via del Colle Affenile ebbene sembra proprio di vivere una delle sette piaghe d'Egitto perché provenienti da un campo vicino, un campo incolto con l'erba alta queste cimici si sono depositate all'esterno di un grande condominio di via del Colle Affenile impedendo alle famiglie di uscire perché poi se aprono le porte questi insetti entrano in casa ebbene i cittadini hanno avvisato il Comune che procederà alla disinfestazione delle vie limitrofe mentre al condominio dovranno pensarci gli stessi proprietari perché quello è un terreno privato e dovranno procedere loro alla bonifica della zona soprattutto dovranno tagliare quell'erba del campo vicino dove si sono annidati questi insetti e hanno proliferato in maniera così numerosa vediamo una seconda apertura del Corriere Adriatico si parla di un intervento di Forza Italia firmato dalla consigliera comunale Rinaldi e del coordinatore fanese Enzo Di Tommaso i quali evidenziano un po' lo stato di difficoltà attuale dell'amministrazione comunale in merito alla gestione dei fondi del PNRR fondi che erano stati utilizzati inizialmente dalla vecchia giunta e che ora a causa della prossimità della reddicontazione dell'investimento di questi fondi rendono difficili arrivare proprio in modo ottimale a quella data e la data è quella del marzo del 2026 ebbene dice Rinaldi che il Comune si trova in uno stato di grave criticità riguardo proprio alla gestione dei fondi del PNRR registrando come ne siano stati calamitati per 78,7 milioni ma rilevando anche che la consistente somma questi milioni che sono configurati come impegni in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche per entrare concretamente in cassa debba essere rendicontata entro il 2026 vuol dire che i lavori che devono essere finanziati con questa somma devono essere completati entro questa data e per loro sembra che sia una missione impossibile e beh insomma vedremo come poi il Comune dovrà per forza di cose superare questo handicap e riuscire a impiegare ottimamente i soldi perché poi se noi non riusciamo a realizzare i progetti con i fondi che ci arrivano dall'Europa questi fondi poi non ci arrivano più oppure ci troviamo in mezzo ad un guado allora passiamo ad un'altra notizia che riguarda Fano soprattutto il cimitero di Via Giustizia piove all'interno del cimitero muffa e in tonaco scrostato sono stati diversi gli articoli di cronaca che evidenziano situazioni di degrado nei cimiteri urbani sono soprattutto posti all'attenzione sia il cimitero urbano quello di Via Giustizia che quello di Bellocchi Rosciano cimiteri che sono giunti ormai al limite dalla loro capienza e hanno bisogno anche di interventi di restauro di ristrutturazione ma anche di ampliamento ebbene questo che viene denunciato è l'ultimo dei casi che sale alla ribalta sono soprattutto problemi che investono il padiglione B protesta chi ha i propri cari sepolti in questo padiglione del Camposanto Centrale e meno male, meno male si dice che c'è la siccità perché altrimenti le infiltrazioni d'acqua avrebbero ancora reso più friabili più instabili le strutture murarie del cimitero stesso allora passiamo a Serra Sant'Abbondio andiamo a prendere un po' più di fresco vicino agli Apennini e vediamo che è stata riaperta la strada delle Schialette una strada che sale verso il Catria limite di velocità e 30 km all'ora da Fonte Avellana al Catria via libera pure al sentiero della Madonna del Grottone ebbene sono due interventi il primo riguarda il comprensorio del Catria questo bellissimo comprensorio di carattere ambientale vista la situazione della viabilità del Monte Catria ancora purtroppo gravemente compromessa dai problemi sollevati dall'alluvione ebbene si è deciso si è poste finalmente le condizioni di poter riaprire questa strada che da Fonte Avellana il convento dei padri camaldolesi sale verso la vetta del monte e poi è fruibile anche il nuovo sentiero che porta alla Madonna del Grottone dopo l'alluvione che ha lasciato ancora segni ben visibili ebbene ci sono dei volontari come Bruno Marocchi, Sesto Casaccia e Angelo Frattini che hanno reso praticabile scalino dopo scalino questo sentiero e per questo c'è il ringraziamento del sindaco Ludovico Caverni il sindaco di Serra Sant'Abbondio e poi è San Lorenzo come abbiamo già detto all'inizio della nostra rassegna stampa e non possiamo non toccare San Lorenzo in campo San Lorenzo in campo che proprio in questo giorno dà le sue benemerenze ai cittadini che ci sono distinti per impegno civico e vediamo chi sono questi cittadini a cui il sindaco dell'Onti rende merito per il loro impegno si tratta innanzitutto della società laurentina Volli a cui è stata concessa la benemerenza di laurentino dell'anno ebbene la società ha raggiunto lo storico traguardo della promozione al campionato regionale di Serie D e quindi se lo merita tutto e poi ancora Rossella Trionfetti che riceverà l'attestato per le sue illustrazioni di libri per bambini pubblicità e giochi interattivi ancora il riconoscimento a Giuliano e Paolo Zingaretti titolari di una delle più antiche attività commerciali del Comune ancora ancora a Davide Torcellini volontario dell'Associazione San Vito Giovani che ha scritto il testo San Vito sul Cesano le stagioni della nostra vita insomma sono veramente cittadini molto noti nel Comune che riceveranno un attestato di benemerenza vediamo anche Senigallia Senigallia è un locale che si è autolimitato per questioni di correttezza e di ordine pubblico ed è il people autorestrizioni al people non vengono ammessi ragazzi al di sotto dei 20 anni niente under 20 in giro ci sono troppe bande di teppisti e soprattutto questi gruppi velleitari sono formati da giovani poco più che poco più che hanno raggiunto la maggiore età poco più che 18 anni e quindi vengono esclusi per evitare problemi specialmente di notte di notte all'interno dei locali e la famiglia Mici pioniera dell'accoglienza lavorando al pubblico da decenni non vuole lamentarsi o protestare ma vuole invitare con questa decisione una riflessione per fermare questa degenerazione che impera tra le giovani generazioni infila il ricordo del padre in una bottiglia poi la fida al mare e questa bottiglia è stata ripescata in Croazia sembra di leggere un libro così un romanzo di avventure ebbene invece è successo veramente da Marzocca a Mocalo Beach un viaggio lungo otto mesi per una bottiglia affidata al mare all'interno un messaggio con scritto un viaggio babbo qualche conchiglia e la fotografia di una persona cara scomparsa sarà gettata in mare con un tenero ricordo e le onde l'hanno portata lontano l'hanno portata sull'altra sponda dell'Adriatico vediamo anche Pesaro Pesaro ancora è completamente immersa nella questione del ROF ebbene il ROF è non solo un evento culturale ma anche un evento di grande importanza economica per la città ne beneficiano soprattutto commercianti e albergatori shopping e passeggio il Maxiroff in centro porta beneficio a tutti commercianti ristoratori e associazioni vedono già i primi risultati gli operatori sono tutti concordi si è ricreata l'atmosfera che mancava da tempo e questa suggestione creata anche dall'aspetto mondano del Rossini Opera Festival dà una certa importanza un certo tono alla manifestazione che lo rende un po' all'altezza di tutti i festival maggiori che si svolgono nel mondo come quello magari dedicato anche ai compositori tedeschi a quelli francesi insomma c'è Rossini che impera quale autorità musicale d'inizio ottocento in tutto il mondo e poi vediamo anche un successo inequivocabile romantica all'ur all'excelsior vediamo anche altre notizie più di 20 quintali di candele non dimentichiamo non mischiamo il diavolo con l'acqua santa perché poi oltre a Roffa Pesaro c'è anche la manifestazione delle candele una edizione dedicata tutta a San Lorenzo tutti vestiti di bianco come fossero delle candele cena in spiaggia vestiti di bianco il naso all'insù e magari ballare alla palla di pomodoro con Romagna mia stasera è la notte di San Lorenzo e torna candele sotto le stelle a Pesaro una manifestazione molto molto partecipata vediamo anche qui la fotografia del dottor Cesare Magalotti responsabile del reparto di senologia dell'aste numero 1 Pesaro Fano Urbino ebbene il dottor Magalotti insieme al dottor Claudio Ciccoli che è responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia sempre dell'aste numero 1 insieme hanno operato un intervento eccezionale ad una paziente che proviene dall'Emilia Romagna da Forlì è venuta a farsi operare nella nostra provincia ebbene contemporaneamente in un unico intervento è stata operata per la rimozione di un tumore al seno e di un tumore all'utero e alle ovaie invece di fare due operazioni separate con due anestesie due interventi che poi avrebbero comportato anche una ripresa più lenta per il posto operatorio tutto è stato fatto in un'unica seduta operatoria e addirittura la rimozione dell'utero è stata fatta dal dottor Ciccoli con il con il meccanismo il meccanismo tecnico autonomo insomma con un'automa che riesce a rendere l'operazione meno invasiva possibile comunque il dottor Cesare Magalotti risponde con l'efficacia del suo lavoro e risultati della sua professionalità alle polemiche che hanno investito il suo ruolo di consigliere comunale con il quale ha denunciato le carenze della sanità della nostra provincia in modo particolare gli effetti della riduzione delle sedute operatorie che hanno posto in lista d'attesa tante donne che avevano bisogno di essere operate al seno dunque una operazione eccezionale è avvenuta a San Salvatore di Pesaro e poi ancora volevo proteggere mia moglie e mio figlio ci ha aggrediti non sapevo di averlo ucciso parla così il 37enne in carcere per omicidio per aver coltellato il suo connazionale albanese Dritan Idrizi si tratta di Artur Ceria 37 anni albanese residente a Tavuglia ed ora vediamo anche il resto del Carlino dove la notizia ci fa stringere un po' il cuore muore a 19 anni al funerale anche Don Ciotti Sofia Bellini Scrocco si è spenta per una grave malattia in tenerissima età solo 19 anni solo un mese fa aveva sostenuto l'esame di maturità al Mengaroni di Pesaro è volata in cielo circondata dall'affetto dei suoi cari sono stati celebrati l'altro giorno i funerali lunedì scorso pochi semplici manifesti scritti in azzurro senza foto affissi unicamente nel quartiere di Fenile dove la giovane mamma dove la giovane abitava con la famiglia e beh insomma è venuto anche in persona Don Luigi Ciotti a così a questo funerale giovedì mattina la chiesa dei Santissimi Pietro e Andrea di Fenile non ce l'ha fatta veramente a contenere tutta la gente che si è riversata per dare l'estremo saluto a questa giovane donna insieme al parroco Don Giuseppe Tintori e ha celebrato anche dicevo Don Luigi Ciotti fondatore del gruppo Abele e Libera e amico fraterno dell'oasi dell'accoglienza di Sant'Andrea quella vestita quella gestita da Maria Chiera tragico volo dal quinto piano una ragazza di vent'anni perde la vita sciocca in via Soncino un tragico volo dal quinto piano ieri mattina nel popoloso quartiere di Sant'Osso erano da poco passate le 8 e 30 quando una studentessa universitaria di vent'anni è precipitata nel vuoto dalla palazzina al civico numero 1 di via Sancino i genitori con cui viveva assieme a due fratelli in quell'appartamento al quinto piano hanno provato ad aiutarla in tutti i modi tant'è che la giovane era seguita anche da professionisti per le difficoltà psichiche che la affliggevano e quindi si pensa che tutto sia avvenuto per un gesto un gesto che ha compiuto la stessa interessata le indagini di polizia giudiziaria sono state volte dagli agenti del commissariato di Fano vediamo ancora anche il Carlino si occupa del flagello delle cimici famiglie murate in casa invasione di insetti in diverse abitazioni di fenile confinanti con un campo e poi anche l'articolo che riguarda l'ordinanza che fa divieto dell'uso di bottiglie contenitori bicchieri di vetro appunto nel territorio comunale vediamo Urbino Urbino servizi al vertice Daniela Capponi ebbene è stata nominata questa nuova responsabile da sempre vicina al movimento di Lino Mecchelli e succede a Giulia Volponi ora vice sindaco della città è stata nominata la scelta è stata ricaduta appunto da questa dipendente universitaria proprio come cinque anni fa la scelta è ricaduta nella squadra attuale del presidente del consiglio quindi anche una scelta di carattere politico oltre che di carattere professionale siamo in conclusione voglio concludere con un articolo che riguarda l'entroterra vediamo che sale alla ribalta il consigliere regionale Giacomo Rossi il quale illustra le nuove date regionali per la raccolta dei tartufi nelle Marche si va al via il primo ottobre cambia dunque il regolamento per la raccolta dei tartufi la ragione ha varato le nuove norme le nuove norme in particolare viene spostata l'apertura al primo ottobre e anticipata la chiusura al 15 gennaio questo un po' anche su istanza degli stessi tartufai e questo è tutto per il momento possiamo benissimo chiudere i giornali e darvi appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7 vi auguro un buon weekend e anche una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto